The Answer è un film e sono qui per parlarvi proprio di questo. È prodotto da Girolamo Sirchia per la fondazione Il Sangue e c'è un cast importante di tanti attori. The Answer non è una lezioncina contro il fumo e perché il fumo fa male. The Answer è un messaggio su quali sono i veri danni del fumo, che non sono solo quelli che avvengono dentro di noi, ma anche tutto ciò che viene al di fuori di noi. E quindi dovete venire a vedere The Answer perché sarà la risposta a tante domande. Capito? Ciao!